Musica In questa puntata di Unicam News, successo per Unicam a Fosforo, il festival della scienza di Senigallia. Fai crescere la ricerca, dono il 5 per 1000 all'Università degli Studi di Camerino. Menzione speciale per la tesi di tre laureate Unicam. Unicam ha promosso un convegno sulle risorse alimentari del territorio. A tutti voi ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Unicam News. Abbiamo sentito i titoli, adesso le notizie e i servizi. Anche quest'anno l'Università degli Studi di Camerino ha preso parte con enorme successo alla quinta edizione di Fosforo, la grande festa dedicata alla scienza che si è tenuta lo scorso fine settimana a Senigallia. Unicam è stata presente con un gruppo di docenti e studenti di informatica, chimica, matematica ed architettura che hanno proposto interessanti e divertenti dimostrazioni, esperimenti, progetti, giochi, sfide e laboratori per avvicinare il numeroso pubblico all'affascinante mondo della scienza. Ribalta dunque per l'informatica grazie a Francesco De Angelis, così come per la matematica e la chimica Unicam che sono state protagoniste, anche nel main stage sabato pomeriggio. Simonetta Bori è stata intervistata per Pillole di Scienza, in cui ha presentato il progetto Benumbori, che ha trasmesso la sua passione per la matematica. Domenica pomeriggio invece Corrado Bacchiocchi e gli studenti hanno entusiasmato il pubblico presente in piazza con divertenti esperimenti. Il tema di quest'anno era ritorno al futuro in occasione dei 30 anni dall'uscita del famoso film e per l'occasione sabato sera alcuni studenti e dottorandi della Scuola di Architettura e Design, coordinati magistralmente dai professori Federico Pedisano e Daniele Rossi, hanno allestito un originalissimo spettacolo di videomapping dal titolo Grande Giove, proiettato sulla facciata del comune di Senigallia, che si è protratto poi con il love painting coinvolgendo ragazzi, adulti e bambini. Nella mattinata di venerdì e sabato poi Valeria Polzonetti e Daniele Rossi hanno ottenuto dei seminari per gli studenti delle scuole superiori sulla corretta alimentazione e sulla modellazione 3D. La scienza è scesa dunque in piazza Senigallia ed Unicam non ha voluto mancare a questo appuntamento. Fai crescere la ricerca, dai il 5 al futuro. E' questo lo slogan per la nuova campagna che invita i contribuenti a destinare il 5x1000 all'Università degli Studi di Camerino. Proseguiamo gli incontri con i giovani ricercatori che ricevono borsi di studio finanziate proprio grazie al 5x1000. Oggi incontriamo Gabriele Achille, fotografo naturalista e dottorando Unicam. Ciao, sono Gabriele Achille, faccio un dottorato in gestione faunistica e in questo momento sto monitorando dei cinghiali per vedere i loro spostamenti. Sto cercando gli animali che ho marcato con una piccola trasmittente per vedere dove vivono e cosa mangiano. Per mezzo di questa strumentazione andremo a sapere dove si trovano questi animali e tutti questi dati, una volta finito lo studio, tra un anno, mi serviranno per prevenire anche i danni all'agricoltura. Sapendo dove vivono questi animali e cosa frequentano a livello ambientale, io riesco anche a prevedere dove vanno questi animali. Adesso cercheremo un soggetto che ho chiamato Ermione e vedremo dove sta. L'abbiamo preso questa direzione, poi ci siamo spostati lungo questa strada, siamo andati qui su questo posto molto panoramico, abbiamo trovato un'altra direzione del cinghiale Ermione che stavamo cercando e intersecando le due rette possiamo benissimo dire con precisione dove quest'animale si trova. In questo caso sta esattamente in fondo a questa gola molto profonda. Valeria Foresi, Marzia Fornari e Maria Mariani, laureate Unicam in architettura, hanno ricevuto la menzione speciale Chioto Club per la tesi adeguamento prestazionale, sismico ed energetico degli edifici in cemento armato negli anni 70. Il lavoro è stato presentato alla seconda edizione di Think Green Be Efficient, una competizione nazionale per tesi di laurea su temi dell'efficienza energetica, promossa tra gli altri dall'Enea e patrocinato dai Ministeri dell'Ambiente e dello sviluppo economico. Come è stato il nostro primo concorso, ci eravamo appena laureate e abbiamo deciso di partecipare e quindi ci ha sorpreso molto l'aver ricevuto questa menzione. La tesi ha come aspetto innovativo la capacità di riqualificare energeticamente e sismicamente l'edificio. Sono due ambiti di intervento che si coniugano in uno solo, mentre ad oggi vengono ancora considerati separatamente. Quindi o si tende a riqualificare l'edificio sismicamente oppure a portare modifiche energetiche. Il concorso Think Green Be Efficient era un concorso incentrato sulla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, anche in relazione a sistemi di domotica e di controllo impiantistico dell'efficienza energetica. C'erano molte categorie di partecipazione e noi abbiamo partecipato in quanto la nostra tesi si inseriva all'interno della riqualificazione energetica degli edifici attraverso sistemi passivi e di controllo. Mi farebbe piacere continuare a lavorare anche sulla tesi per renderla un progetto effettivo anche in relazione al futuro che comunque a livello edilizio e architettonico è un passo importante quello che noi abbiamo studiato. Quindi continuare a lavorarci non sarebbe brutto. Poi chiaramente sono un architetto, quindi la professione è il mio obiettivo fondamentale. L'Università di Camerino ha organizzato nei giorni scorsi il convegno sul tema risorse e territorio, cibi, culture, sperimentazioni nell'Appennino centrale tra Medioevo e Contemporaneità che attraverso le vicende del cibo, dei modelli di produzione e di consumo ha voluto valorizzare la specificità di un territorio ricco di storia, cultura e tradizioni che ha sempre avuto un rapporto profondo e inscindibile con i temi dell'alimentazione individuando soluzioni di straordinaria efficacia nel pieno rispetto degli ecosistemi antropici e naturali. Un'altra manifestazione estremamente importante che l'Università di Camerino con gli stakeholders locali hanno voluto organizzare è una manifestazione a catalogo Expo 2015 e di questo ci fa molto piacere, ancora una volta la valorizzazione e il connubio importante tra alimentazione e nutrizione sono due parole chiave estremamente importanti che valorizzano il nostro territorio, il nostro paese rispetto ad altri paesi che stanno crescendo in maniera molto molto importante. Un terzo asse che abbiamo voluto mettere a disposizione di tutti questi ragazzi del territorio è la parte storica abbiamo voluto ricostruire un po' di storia e dalla storia guardare ad un futuro sempre più basato sulla qualità dei nostri prodotti possiamo avvantaggiarci da questo punto di vista ad essere competitivi a livello mondiale. Expo 2015 dà a tutte le università, agli studiosi, ai territori la possibilità di riflettere sulle tematiche, sulle problematiche relative all'alimentazione ci è perso opportuno focalizzare l'attenzione sul territorio sul territorio per sottolineare quali siano le specificità di questo territorio quali siano le sue risorse effettive che a lungo hanno consentito a un territorio montano di vivere, sopravvivere, anzi di essere alle origini di una vera e propria civiltà la civiltà peninica quindi è un'opportunità per riflettere sulle ragioni storiche i fattori storici, sul paesaggio, sull'economia ma anche sulle tipicità alimentari sotto anche il profilo naturalmente nutrizionale tutte le componenti di Unicam hanno partecipato tutte le scuole hanno dato il loro contributo ciascuno con le proprie competenze E' stato poi realizzato anche uno spazio espositivo nel quadriportico di Palazzo Ducale allo scopo di promuovere le produzioni agroalimentari del territorio studenti, docenti e dirigenti di alcuni istituti superiori della provincia di Mascerata hanno poi esposto poster ed elaborato frutto della loro creatività in merito alle tematiche delle sport E con questo è tutto vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì ovviamente alla stessa ora vi ricordiamo che potete seguire le altre notizie sull'attività dell'Università degli Studi di Camerino sul sito internet www.unicam.it Buona serata